E' del tutto fisiologico se si sono verificati voti differenti tra le nostre liste e Fulvio di Benedetto. Non c'è stata da parte mia nessuna indicazione di voto verso Luigi La Civita, in quanto la verità è che molti non hanno voluto esprimere la preferenza per un candidato che purtroppo non c'è più, nonostante i nostri appelli per spiegare che era comunque un voto valido. Così il consigliere provinciale Andrea Gerosolimo si difende dalle accuse di un patto trasversale con il PDL per favorire l'ingresso al ballottaggio di Luigi La Civita. Sul Mona Unita ha totalizzato 3835 preferenze, mentre i voti al candidato defunto sono stati 3255. I dubbi sono nati in seguito ai 580 voti presi in più dalle liste e dalla presenza di schede con il voto alla lista sul Mona al centro e al candidato del PDL. I nostri rappresentanti hanno contato però solo un centinaio di schede con la preferenza alla Civita, numero tra l'altro molto simile ai voti andati a Ranalli, sia dalla nostra coalizione che dalle liste di centrodestra, e molto simile ai voti espressi alla Civita da elettori di centrosinistra, precisa Andrea Gerosolimo, che, nel ribadire che non c'è stato alcun accordo sotto banco, accusa gli altri schieramenti di aver fatto una campagna elettorale per delegittimare sul Mona Unita, dicendo che il voto a Fulvio di Benedetto non sarebbe servito. Se c'è stato un voto disgiunto così evidente, conclude, la causa va attribuita anche ai vergognosi slogan sul voto inutile fatti dagli altri candidati.